Gli interventi dopo il terremoto dell'80 non sono mancati ma a distanza di oltre 30 anni servono ulteriori sforzi per rafforzare la sicurezza degli edifici a Salerno e provincia. Il presidente dell'ordine degli ingegneri Michele Brigante sottolinea la necessità di una nuova consapevolezza del rischio che si corre e che deve andare oltre la logica dell'emotività del momento. Noi abbiamo un patrimonio di rischio che ha un'età media abbastanza elevata, insomma sono ansia notti. Questo non significa che non sono efficienti, la situazione media è che gli edifici vanno migliorati per una potenziale risposta ad un evento calamitoso cioè il livello di sicurezza va elevato, qualcuno dice adeguato alla risposta di un potenziale terremoto, cominciamo a dire sensibilmente migliorato. Questo si fa con una prevenzione, una programmazione, ci vogliono decine di anni, non è che si fa in un anno o due o tre e quindi bisogna partire con un piano di interventi che sia consapevole. Dovremmo un po' staccarci dall'idea della contribuzione, l'intervento dello Stato, fino a che punto. Noi dovremmo innanzitutto avere una consapevolezza del potenziale rischio. Allo stesso tempo Brigante sottolinea la risposta degli ingegneri salernitani di fronte all'emergenza, una nutrita squadra di professionisti del territorio e pronta a partire alla volta del centro Italia. Lunedì terremo la prima riunione alle 18 per preparare già lo schema delle prime squadre che partiranno. Purtroppo sono momenti duri, bisogna rispondere e noi come sempre siamo in prima fila.